Ben ritrovati gentili ascoltatori, proseguiamo ora con le nostre trasmissioni. Vi proponiamo in diretta la scapricciata e contrapunto a Dante, opera del maestro peruviano Atta Balibba, con la partecipazione dei signori Alighieri Dante, Leopardi Giacomo, Manzoni Alessandro, D'Annunzio Gabriele e la partecipazione straordinaria del signor Hemingway Ernesto, dall'America. Ricordiamo che l'ascolto e la visione del programma sono vietati ai minori di anni 18, alle puerpere, ai belgi e a quei genitori che hanno chiamato il proprio figlio, Renato. A tutti gli ascoltatori, buona visione! Nel mezzo del cammino, Silvia, 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 Sil Grazie a tutti